Ben trovati a tutti, un nuovo appuntamento con il telegiornale dedicato alla sicurezza sul lavoro e realizzato in collaborazione con l'ANMIL. L'INAIL stima che nel 2006 sono avvenuti 175 mila infortuni tra i lavoratori in nero. I dati sono stati resi noti da Franco D'Amico, il coordinatore generale della consulenza statistica attuariale dell'Istituto Assicuratore e sono stati ottenuti applicando al numero di lavoratori irregolari stimati dall'Istat i tassi di frequenza per settori d'appartenenza. Gli infortuni sarebbero stati 150 mila tra gli italiani e 25 mila tra gli stranieri. L'incidenza è più alta del 20-25% tra gli immigrati che sono occupati in rami di attività più a rischio e in cui è più diffuso il lavoro sommerso. I settori più colpiti sono industrie e servizi con 150 mila infortuni e agricoltura con 25 mila infortuni. Dal punto di vista geografico 50 mila infortuni sono avvenuti nel Mezzogiorno, 45 mila nel nord-ovest e nel nord-est e 35 mila nel centro. La regione con più vittime è la Lombardia con oltre 26 mila infortuni, seguita da Emilia Romagna e Veneto con 18 mila. La Cassazione dispone che il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi neanche nelle imprese di grandi dimensioni. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna per incendio colposo pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino a carico di uno dei vertici della ThyssenKrupp che aveva delegato alcuni dirigenti a valutare i rischi dello stabilimento dove, lo ricorderete, nel 2002 diva un po' un rogo. Secondo i magistrati, tra gli obblighi del datore di lavoro stabiliti dalla legge non delegabili neanche nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni rientrano la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza necessaria per la redazione del documento che contiene anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La Corte ha precisato che è fermo l'obbligo per il datore di intervenire allorché apprezzi che il rischio connesso allo svolgimento dell'attività si riconnette a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa attribuirsi al responsabile della sicurezza. Sono stati condannati 14 tra dirigenti e amministratori della Montefibre di Pallanza in provincia di Verbania per la morte di 11 operai esposti all'amianto ribaltando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Verbania nel 2007 la Corte d'Appello di Torino ha condannato per omicidio colposo plurimo appena comprese tra 11 e 20 mesi di reclusione i vertici dell'azienda leader nella produzione di nylon e rayon condannati tra gli altri Mario Valeri Manera a 18 mesi l'ex presidente dell'ENI Giorgio Mazzanti a 16 mesi e l'ex amministratore delegato di Montedison Alberto Grandi a 11 mesi gli imputati dovranno anche risarcire le parti civili con 50.000 euro ciascuna i fatti accertati nel processo avvennero tra il 1961 e l'88 anni in cui i dipendenti della Montefibre vennero abitualmente esposti all'amianto in assenza dei più elementari sistemi di prevenzione come strumenti per l'aspirazione delle polveri, mascherine e caschi termoventilati sarà dedicato anche al dramma delle morti bianche il concerto del primo maggio di quest'anno nell'occasione Vasco Rossi donerà 100.000 euro in favore degli orfani dei caduti sul lavoro gli organizzatori della manifestazione per la festa dei lavoratori lanceranno una raccolta di fondi per l'assegnazione di borse di studio ai figli delle vittime del lavoro ha già aderito all'iniziativa il cantante Vasco Rossi che ha disposto un contributo di 100.000 euro per sollecitare una maggiore attenzione nei confronti di un problema grave purtroppo sottovalutato come quello degli incidenti sul lavoro tra le idee che abbiamo avuto per sensibilizzare il pubblico su questa tragedia quotidiana ha detto il conduttore del concerto che sarà Sergio Castellitto vi è anche quella di invitare a suonare la chitarra a uno dei figli dei tanti caduti sul lavoro nell'associazione vittime caduti forze armate chiede risarcimenti per i militari e i civili che hanno contratto malattie per il contatto con risiduati bellici nei poligoni di tiro il presidente Falco Accame ha denunciato i numerosi casi di grave infermità e morte verificatasi in particolare in Sardegna nei poligoni di Teulada, Capo Frasca, Decimo Mannu e Salto di Quirra utilizzati a livello internazionale sia da operatori militari che civili di diversi paesi lo stesso discorso vale per altri poligoni analoghi come quello di Nettuno nel Lazio quello delle Murge in Puglia e quello del Dandolo in Friuli da anni l'associazione vittime caduti forze armate ha sottolineato Accame ha richiesto che sia risarcito tutto il personale che ha operato senza misure di prevenzione in particolare che ha recuperato risiduati bellici anche a mani nude come confermato da una recente sentenza del Tribunale di Firenze che ha concesso un risarcimento di mezzo milione di euro ad un militare che aveva operato senza misure di protezione a contatto con l'uranio impoverito ebbene questa era la nostra ultima notizia del telegiornale dedicato alla sicurezza sul lavoro vi ringrazio come ogni puntata per averci seguito e vi auguro una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti